L'attore siciliano Pippo Patavina aprirà il prossimo 22 ottobre la stagione 2011-2012 del Teatro Donna Fugata di Ragusa Ibla. Un ciclo di cinque appuntamenti presentato questa mattina che proseguirà con Morire di Fama, ideato da Evelyn Fama. Il celebre Mistero Buffo di Dario Foco, l'adattamento di Antonio Venturino, metà dicembre e chiusura affidata allo spettacolo dai sateliti dei due appuntamenti in programma fino a febbraio 2012. Una stagione che vede la direzione artistica di Vichi e Costanza di Quattro. Per chi continuerà a frequentare il nostro teatro nel corso dell'anno, anche al di fuori degli appuntamenti stagionali, spiegano, sarà a disposizione una mostra fotografica per rivivere in forme diverse la magia del teatro. La stesura del cartellone ha visto anche la consulenza di Carlo Ferreri, attore e regista. Torno a Ragusa dopo diversi anni di assenza ed avere la possibilità di tornare nella mia città attraverso una stagione artistica mi riempie d'orgoglio con nomi di altissimo livello adatti al meraviglioso spazio di un terrino in miniatura.